Un nuovo inatteso gesto di misericordia e vicinanza ha portato il Papa sulla via Ardeatina, Roma, a visitare il centro di eccellenza Santa Lucia, dove sono ricoverati pazienti con patologie derivanti da ictus, lesioni midollari, Parkinson e sclerosi multipla. Grande la gioia di chi lo ha visto arrivare nel parcheggio dell'edificio, che subito gli si è stretto intorno, chiedendogli foto e preghiere. Accompagnato dallo staff dell'ospedale, Francesco ha visitato i reparti, benedetto i malati, lasciato in dono Rosari. Particolarmente emozionante è stato il momento in cui Bergoglio si è intrattenuto con i bambini affetti da patologie neurologiche che affrontano ogni giorno una riabilitazione motoria, spesso faticosa, dolorosa e lenta. La simpatia del Papa ha conquistato anche alcuni dei piccoli e preziose sono state le parole di conforto rivolte ai genitori, che lo hanno inondato di gratitudine. Altra tappa è stata nel reparto, dove sono ospitati pazienti tra i 15 e i 25 anni, tetraplegici e paraplegici, alcuni dei quali a seguito di incidenti stradali, e infine la palestra, dove le persone anziane fanno fisioterapia. A nessuno sono mancati il sorriso e la carezza di Francesco, che ha incoraggiato i degenti a svolgere con costanza gli esercizi fisici, ma poi ha detto anche di non arrendersi, di sperare nel futuro e confidare nella ricerca scientifica, che permette di fare grandi progressi in questo campo. Al termine, come di consueto, la sosta nella cappellina del Santa Lucia per offrire addio tutti i malati incontrati.